Alex Belli contro Alessandro Basciano. Il man del game tuona contro Alessandro Basciano reputandolo un copia e in colla dell'originale. Ecco cosa è successo poco fa su Twitter che porta una sola firma. Ab, Alex Belli. Secondo Alex Belli, il nuovo ingresso del grande fratello VIP sarebbe solo una sua copia. Il man uscito dal game per tornare alla factory. Ha deciso di parlare chiaro, reputando Basciano un uomo frutto di un aggressivo, copia e in colla, per intenderci. Questo è il suo messaggio scritto su Twitter. Anche se hai le stesse mie iniziali ab sei un copia e in colla. E attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali. Cosa ne pensate delle parole di Alex Belli? Non è che stia provando un minimo di gelosia del rapporto che Alessandro sta instaurando con Soleil? Dovrebbe innervosirsi delle parole di Alex che non sembrano alto che parole di gelosia?